Buongiorno, buongiorno, occhio pecoro, anche in montagna, ci siamo, ci siamo, oggi è un giorno speciale, anche con l'occhio pecoro, sì sì sì, è venerdì. Come sei bella questa mattina, ti piace il mio occhio pecoro? Do you like? Lo so, lo so, sei bellissimo comunque. Amore dai che è tardi, ma questa sta sempre al bagno, come le occhi, ma anche le ragazze vostre fanno così, che stanno sempre al bagno, io boh, mamma mia, non ne posso più già, già un giorno non ne posso più, mi sveglio la mattina io. Mamma mia, ma questa è bella, tutti insieme, sulle mani, ci siamo? E questo no. Pronto? Sì sì sì, è venerdì, sentite qua. Ma come che è? Ma come che è? Ma come che è? Lo so, il movimento! Che cazzo ho fatto? È finita? No, è finita, no, è finita, rimettevola. Bello questo hotel, guardate quanto è bello ragazzi, fantastico, uno spettacolo. Quadrilli, anche in montagna, Isa G. Oggi questo è freschissimo, il 315, fate Swipe Up, andate a vedere tutti i profumi, anche i campioncini top. Swipe! Vi volevo ringraziare per tutte le storie che avete fatto oggi, siete sempre i numeri uno, mi piacciono da morire ragazzi, continuate a farle perché siete fantastici, fantastici, grazie di cuore, grazie, grazie, grazie. Vuol dire che sono qui per fare dei video e dei shooting, ci ha ospitato questo fantastico hotel. Questo è un po' il bello ragazzi di Instagram che a volte ti fa uscire dalla vita normale. Scungere il posto dello shooting, c'è il grande Piero che ci porterà con le motoslitte. grande Piero, al top! Com'è Marco, c'è un buon pilota? Abbastanza. C'è il mio lumaca. Dove fa fuori il socelo? C'è una lumaca! Dove fa fuori il socelo? Va beh. Stanno bene, oh. Anche in Francia stanno bene. Mariali, me li taglia di là. Il vento che sposta gli appuntamenti. Io sono dei forti. E qui c'erano delle persone che ci vivevano, che controllavano. Noi ci lamentamo quando è freddo, quando è... Cioè, era un'altra pasta, raga, un'altra pasta. Non ce n'è proprio. Coccodrilli, ore 18, tutti sintonizzati su YouTube. Perché ci sarà il video del prosciuttino. Quindi, non vi lascio mai soli, raga. Mai, mai, mai. Fate swipe, iscrivetevi intanto. Le langhe. Che è che dalle botti. Ah, sento bene. Vai Mariano. Adesso. Adesso, prima io. Sa di vino. Questo, davvero, metti la città. C'è una riserva personale del signor Giovanni. È sempre mascherato. D'accordo a lui. Sa sempre di vino. È il numero 5? No, non viaggio a il numero 5. Da quando? Da ieri. No, da steri. Se arrivi da Chassamontrachè o Pulignimo. Quindi devo dire. Sa Chassamontrachè. Non capisco se viene da Chassamontrachè. O Pulignimo. O Pulignimo e Montrachè. Però. Montrachè c'è anche. Volete farvi due risate? Fate swipe up. Andate a vedere il taglio del prosciuttino, ragazzi. Perché questo vale la pena proprio. Su YouTube. Swipe. Fate così col litino. È semplice. It's easy. Però diciamo che più o meno il tannino deve esserci per essere vediolo o barolo. Sul barolo, ragazzi. Il tannino c'è sempre. Correto. Tannino sempre. No tannino, no barolo. Dormimo. Oh. Oh. Fammi ripusate. Se dormi. Ma resta sul taccadani. Porco cane. È un'ora. È un'ora. È un'ora. È possibile che non riuscimo a fare questa cosa. È un'ora. Un'ora. Fashion block. Vai, ci riproviamo, eh. Ma quanto sei bello. Come? Ma la risatina? Ma chi è? Chi è? Dove vuoi andare? Come fa il cavallo, vedi? Come fa? Come fa il cavallo? Gatto, il cane, il lupo. Il lupone. Il... 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 Il numero uno. Già che siamo arrivati. È? Giovanni. Si può dire? Già sempre il vino in mano, cioè, non lo so. È Giovanni. Non riesco a stare senza. Ma è su stampolla che c'è, oh? Sa. Non si sa? Non lo so, ma lo devi dire tu. Bu, assaggiamo. Non riesco mai a staccarmi dal prosciutto. Ma tu mi porta le posate, ma io ragazzo con le mani. C'è. 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 Odrilli. Sto rispondendo a tutti i vostri messaggi su YouTube. I vostri commenti per me è fondamentale. Ogni volta che ho tempo vi risponderò sempre. Ciao a voi. Ma a me piace proprio scrivere con l'erno in computer. Scrivo super veloci. I tasti sono... Quando li pigi sono, boh... È da gusto, proprio pigiali. Trititititititititititititititititititititititititit. Intanto non lo vestimo. Un'altra giornata passata. Veramente molto bene. Prima ho sentito il nonno. Tutto bene, tutto a posto. Domenica sarò di nuovo a casa. E niente. Volevo ringraziarvi per i messaggi anche che mi mandate quando sono magari da solo. E mi dite che ci fai sorridere sempre. Ci fai passare dei momenti belli. Grazie ragazzi. È il minimo che possa fare. Voglio e vorrò sempre divertirvi. Farvi passare quei pochi minuti ma magari spensierati. Oggi tra l'altro c'è stato un gran video. Andate su YouTube. Carletto Live su YouTube. L'avvio. Noi diciamo l'avvio del prosciutto. Quindi top. Buonanotte raga. Vi voglio bene. Adesso dormimo. Buonanotte. Mi fa il solletichino. No, stai buona. No dai. Dai, stai buona. Ci vedono tutti. Non possiamo fare. Oddio. No, stai buona. No, no. Dai. Fala brava. Buonanotte. L'amore mio è proprio bella. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte.